Deve essere accordato in riforma della sentenza impugnata lo status di protezione sussidiaria. Alla luce del drammatico sviluppo che in Nigeria ha conosciuto negli ultimi mesi l'attività dei gruppi terroristici di ispirazione islamica, debbano ritenersi superate le perplessità in ordine alla veridicità del racconto della reclamante, quale essere stata lei testimonia oculare dell'assassino del padre e per tale motivo essere esposta al rischio di essere uccisa in quanto scomoda testimone. Grazie a tutti.